Gli esamiti di scente alimentare? Sì. Ha la sua età. Anzi, è andato discretamente. È andato discretamente? Ma bravo! Ma il signor archivistacapo è molto bravo, sta a tante cose. Ci siamo già conosciuti, non è vero, signor frittacapo? Sì, appunto, ci siamo già conosciuti, non avrei mai immaginato... Di trovarmi qui? Naturalmente. Ma a me mi fa tanto piacere di vedere la signor frittacapo. Anche a me, e comunque, lo siamo notato. Arrivederci... Ma gli esami non sono ancora terminati, signor frittacapo, non è vero che non sono ancora terminati? Vuole accomodarsi, signor frittacapo? Scusi, se abbiamo esaminato, mentre lei era stente. Non di perdone, signor frittacapo, non è vero, domandine facili. Dunque vediamo un po'. Qual è il lago più grande d'Italia, signor frittacapo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero il lago più grande d'Italia. Lago Maggiore! Me lo immaginavo! Me lo immaginavo che ci cascava! Il lago Maggiore non è il lago più grande d'Italia. Si dice Maggiore, ma non è Maggiore. Il lago di Garta è Maggiore di lui. E appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? È fiditosa! Ti prende un inconvulso! Doviamo fare qualche domandina sulla storia, signor frittacapo? Nel suo dritto. Dunque vediamo un po'. Signor frittacapo, dove è morto Garibaldi? Garibaldi? Capri! Lo sapevo, signor frittacapo! E' di nuova! Morto, signor frittacapo! Ve lo immaginate Garibaldi e Capri con la sua barba? Con il suo slip? Che fa i duffi dal panaglione? Caprera! Non Capri! Garibaldi è morto a Caprera! Signor frittacapo! Qual è il nome di un pachiderma, signor frittacapo? Un pachiderma qualunque? Un pachiderma? Artari! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i tuoi superiori, signor archivittacapo! Ma signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un pachiderma! Ecco. Già lo so. Voi ce l'ha con me per l'attore del pappagallo. Perché parli al pappagallo? Che gente il pappagallo! Costui vuol fare l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi vi tengo a ragion veduta che non può avere la promozione. E' aggovinato. Senza andro bocciato. Senza andro bocciato. Vi dica un po', signor archivista capo, signor senti... signor maestro. Permette che le faccio una domanda. Avanti, signor archivista capo. Mi faccio una domanda. E allora mi saprebbe dire... Che significhi? La parola paliatone. Che significhi? Paliatone. Perché lei lo sa, signor archivista capo? Se non lo sapessi, non starei qui. Non le avrei fatto una domanda. E allora ce lo dica, signor archivista capo, cosa significa paliatone. Sì. Permette? Vuole alzarsi? Prego. Quindi... Lei non sa che cosa significa paliatone? Non lo so, non ne ditte. E... mane? Su nel bambino! No, no, no. forgiveness! Ehi, charge! Fai vai. Prego! No hay niña! Sinifichi! Ma che poteva immaginare? Non le vado, mi vede. Quante le ho prese. Non le abbiamo prese, signora mia. Le ho prese da lui. Ora mi vengo su, di una destra canuta. Bocciato. Tent'altro bocciato. Tent'altro bocciato. Che vada a ricorrere da Sua eccellenza. Ci vada, che mi faccio una bella ristata.